John Bollinger, l'analista razionale, un vero guru dell'analisi tecnica e del trading. Sicuramente hai sentito parlare delle bande di Bollinger, ma sei sicuro di conoscere tutta la storia di John Bollinger? Buongiorno, sono Filippo Diodovic di IG e in questo video parleremo di John Bollinger, l'uomo che ha rivoluzionato il mondo dell'analisi tecnica grazie ai suoi studi sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger è un noto analista tecnico e autore di successo nel campo degli investimenti finanziari. È nato il 27 maggio 1950 a Montclair, nel New Jersey, negli Stati Uniti. La sua carriera nel settore finanziario è iniziata negli anni 70, quando ha lavorato come analista finanziario e gestore del portafoglio presso diverse società di investimento di primo piano, tra cui il gruppo Vanguard e la Capital Management Advisor. Durante questo periodo è diventato particolarmente interessato e specializzato nell'analisi tecnica e nello sviluppo di strumenti per l'analisi dei mercati finanziari. Nel 1983 Bollinger ha fondato la Bollinger Capital Management, una società di investimento specializzata nella gestione di fondi e nel fornire servizi di consulenza finanziaria. In seguito ha sviluppato e reso popolare l'indicatore tecnico noto come bande di Bollinger. Questo indicatore si basa sul legame tra i movimenti dei prezzi degli asset finanziari e la loro volatilità. Le bande di Bollinger consistono in tre linee. Una linea di base è rappresentata da una media mobile semplice a 20 periodi e due bande, una superiore e una inferiore, che rappresentano una misura della volatilità dei prezzi. Queste bande possono essere utilizzate per identificare potenziali punti di inversione del mercato, situazioni di iper venduto o iper comprato e per determinare la forza di un trend. Se vuoi approfondire sul nostro canale YouTube trovi un video interamente dedicato alle bande di Bollinger. John Bollinger ha scritto anche diversi libri sulle sue teorie e metodologie di analisi tecnica, tra cui il suo libro più noto, Bollinger on Bollinger Bands, pubblicato nel 2001. Ha avuto inoltre un ruolo attivo nel campo dell'educazione finanziaria, tenendo conferenze e seminari in tutto il mondo. La sua carriera nel settore finanziario gli ha permesso di guadagnare una reputazione di esperto riconosciuto nel campo dell'analisi tecnica e le sue bande di Bollinger sono diventate uno strumento ampiamente utilizzato per prendere decisioni nel mondo del trading. L'idea che solo un approccio personalizzato abbia una reale possibilità di successo è una verità universale per gli investimenti. L'indipendenza e il pensiero indipendente sono le chiavi del successo. È molto comodo e facile seguire quello che fanno tutti gli altri o quello che ti dicono di fare, eppure questa è una strada piena di pericoli e rischi. Ti è piaciuto questo video? Ricorda di mettere like e di iscriverti al nostro canale YouTube attivando le notifiche. Sono in arrivo tanti altri nuovi contenuti sulla finanza e sul trading. Alla prossima!